Quest'anno abbiamo così continuato una storia, una storia, una bella storia, una storia di una partnership, una storia di una condivisione di elementi comuni tra BMW, BMW Milano e l'Olimpia Milano. Siamo ovviamente molto molto contenti e orgogliosi di muoversi con la scritta BMW Milano sopra le nostre auto. E oggi abbiamo il piacere di trovare questi punti comuni, come dicevo prima, in una storia che continua, in un prodotto d'eccellenza, la nuova X3. Diciamo che ci sono le basi, gli interessi e i presupposti per continuare questa storia di Milano, per Milano, per la città di Milano, tra l'Olimpia, Basket Milano e la BMW Milano. Grazie. Grazie.